Un saluto a tutti i campanari di YouTube, mi trovo a Marina di Campo, provincia di Livorno, isola d'Elba. Questa è la chiesa parrucchiale di San Gaetano, abbiamo un concerto di quattro campane a slancio e adesso vi farò ascoltare l'angelo sferiale suonato con la campana maggiore. A presto! 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 A presto!